theory trout è la nuova serie di canne teleregolabili di casa tubertini disponibile in tre misure 6 7 e 8 metri la theory trout è una canna come già detto teleregolabile molto interessante dal punto di vista dell'ingombro a canna chiusa e dei diametri della base stiamo parlando di una canna molto leggera rigida quindi bilanciata e sensibile adatta sul pesce selvatico anche molto diffidente la peculiarità appunto che risalta subito all'occhio di questa canna è l'ingombro a canna chiusa anellata di 144 centimetri e 31,7 millimetri l'impugnatura alla base per un peso totale anellata di circa 540 grammi la theory trout in questo caso la 8 metri monta un solo anello a doppio ponte uno due blocchi e poi tutti anelli a ponte singolo con telaio ultra resistente nella parte della placca porta mulinello quindi dell'impugnatura la canna è stata rivestita in light rubber per garantire sempre un buon grip anche in caso di forte pioggia abbiamo una scala graduata per la misurazione dei pesci e una serigrafia direi molto accattivante con un accostamento di colori perfetto theory trout è una canna ideale per il trottaiolo esigente